La compagnia del veterinario è una compagnia che in questi anni ha aiutato tanti e ha rappresentato delle cose bellissime, ma per rappresentare qualcosa c'è bisogno di un teatro. La vita è già un grande teatro, il teatro ci aiuta a capire la vita, a vederla, a rappresentarla, a scaperci scherzare, a saperci piangere, a vederci rispecchiati. Credo che questa raccolta fondi o fonfi, senza altro, può riaprire uno spazio importante e anche aiutare tutti quanti noi a stare meglio, vedendoci rappresentati in quel teatro e trovando a vivere meglio il grande teatro della vita.